Per la Lisciani Teramo è arrivato il momento della fase nazionale dopo aver vinto i play-off regionali, si inizia sabato alle 16 all'Acquaviva contro i pugliesi del Torre Maggiore. Sì, è una partita decisamente attesa dopo un campionato particolarmente brillante, dove tutte le individualità di questa società hanno dimostrato le loro capacità, sia a livello tecnico e atletico, ma soprattutto gli aspetti legati a una squadra che si è dimostrata fin da subito unitissima, coesa, un gruppo che giornata dopo giornata si è costituito, si è aggregato e ha veramente dimostrato una potenzialità importante e quindi affrontiamo questa sfida sempre con l'umiltà consueta con cui affrontiamo tutte le partite, ma allo stesso tempo consapevoli delle potenzialità individuali, ma soprattutto di un gruppo veramente coeso e forte, affiatato, che ci ha permesso appunto i risultati fino a qui ottenuti. Inizia questa corsa verso la Serie B, è un triangolare, il Torre Maggiore ha perso la prima partita, che conosciamo di questo avversario? È sicuramente una squadra ben strutturata, anche loro hanno delle individualità importanti, un gioco che si è dimostrato nella gara contro il Barletta che può creare delle difficoltà, ma noi appunto abbiamo affrontato durante questo anno squadre che hanno impostato un gioco veramente diverso, su più fronti, mi viene in mente Magnificat, piuttosto che Atrio Celano, quindi stili e modi di gioco differenti e la nostra preparazione è stata orientata poi a gestire questa diversa tipologia di gioco, quindi ci consideriamo sufficientemente pronti per poter affrontare anche questa squadra.